Siamo con mister Loiaco, si legge sul volto anche se il suo sorriso non tramonta mai, ma questo pareggio ormai sembrava cosa fatta, poi c'è stata questa protesta di Alessio Befi, resta un po' il rammarico. Certamente Pasquale, il rammarico c'è perché è un punto che avrebbe fatto morale, i ragazzi gli avrebbero dato ancora quella spinta maggiore per il proseguo del campionato, c'è anche da dire che se analizzi la partita, adesso a mente fredda, il Montessori ha meritato la vittoria, non è che è venuta qui, noi abbiamo tirato uno o due volte in porta, quindi il golo poi è venuto su una loro disattenzione, tutto sommato la vittoria c'è per loro. Dispiace perché ovviamente il segnale l'avevi avuto, il pareggio l'avevi conquistato, 5 minuti di recupero e prendi il golo al terzo minuto, quindi dispiace solo per questo. Stamartino ha fatto la partita che doveva fare, forse a complicare le cose c'è stata un po' questa espulsione di campo basso e questo golo è arrivato proprio allo scadere del primo tempo che è portato in vantaggio, perché quando si prende il golo, tu che hai giocato, il golo al fine del primo tempo, insomma è difficile ripartire. Sì, è un golo che taglia le gambe perché è giunto al 44esimo, però poi nei tre minuti dove la squadra sbandata in Montessori doveva e poteva aiutare la partita non l'ha fatto. E per l'espulsione, Pasqua, io non so cosa sia successo perché ho chiesto spiegazioni a Nicola e mi dice che non ha detto niente all'altro. Mi fido del ragazzo, però al tempo stesso dico pure che questa cosa che è successa ha fatto scattare qualcosa nella mente dei ragazzi che hanno iniziato un po' quantomeno a provare a giocare a calcio. Sì, io dalla mia postazione ho visto che chiudevano in due campo basso, poi non ho visto la comitata, poi ho visto che in campo basso faceva vedere all'arbitro vicino al labbro, poi non ho sentito cosa ha detto, però voglio dire che se ha detto qualcosa lui con grande esperienza la poteva evitare. Sì, questo senzato, infatti l'ho detto anche alla fine della partita, in questi casi sta zitti perché una volta che hai inquadrato l'arbitro e capisci che, perché poi magari la rivedrò la partita, non so quante punizioni contro ci hai chiamato, alcune anche in esistente, però vi ripeto, non sto qui ad appellarmi sull'arbitraggio, però dispiace perché un ragazzo esperto come Nicolo non dovrebbe cadere in questi giocaetti. Mario, comunque non era certamente contro il Montesartio che il San Martino doveva fare quei punti che tu dici necessari alla salvezza, questo ovviamente quindi non cambia il piano e gli obiettivi della tua formazione. Sicuramente no, Pasqua, come ho sempre detto a voi, a giornale, a chiunque, il nostro obiettivo è la salvezza, puntiamo ad arrivare a questi benedetti 40 punti il prima possibile, dopodiché decideremo, vedremo quante giornate mancherà, però adesso l'obiettivo nostro è la salvezza e far crescere questo gruppo fatto di giovani. Se pensi che oggi abbiamo chiuso la partita con 93, 95, un 96, un 98, sono pure soddisfazioni che poi, penso alla lunga, pagheranno. Senti, una battuta finale, la chiediamo a te che sei sempre molto obiettivo, questo Montesartio che impressione ti ha fatto? Ma allora, ti dico la verità, mi ha fatto una buona impressione, però viaggia a tratti, nel senso che vive di momenti, di impulsi, non vedo ovviamente unione tra di loro, però siamo alle prime giornate, Pasqua, ovviamente ci sarà tempo per tutti, per amalgamarsi, per stare un pochino anche meglio messi su tante situazioni, perché poi si inizia a delineare la classifica, inizia a prendere confidenza e quindi poi tutto viene più facile. Io i complimenti li faccio comunque al Montesartio. Se dico Alessio Befi 2, San Martino 1, dico una cosa che non sta inizialmente a terra? No, dici una cosa giusta, perché ovviamente è stato lui il mattatore della partita, al tempo stesso ti posso dire pure che il secondo gol è stato proprio un'invenzione, perché non so da dove l'ha pescato questo gol. Complimenti anche ad Alessio. Con Pasquale Ferrari cerchiamo di commentare questa partita che ha regalato, grazie anche a una protezione di Alessio Befi, la vittoria al Montesartio e dopo tantissime, tantissime occasioni sciupate un po', cioè per certi aspetti Pasqualino, certi tratti, la fotocopia della partita di Domenico, quando la squadra doveva affondare, chiudere la gara, non l'ho affatto. Guarda, domenica io ho apprezzato molto lo spirito dei ragazzi, 83 minuti, sì dico io domenica abbiamo vinto con spirito di squadra, con sacrificio, con cattiveria, insomma col piglio della grande squadra, oggi abbiamo fatto uno o due passi indietro sotto questo aspetto, perché quando vieni a San Martino, un quarto d'ora, un quarto d'ora ha fatto male, dopodiché abbiamo preso in mano il gioco e ha creato almeno tre o quattro palle gol limpide, è stato bravissimo palluotto, un pochettino imprecisi qualche attaccante, insomma, fuori casa voglio dire questo lusso non sempre poi ti va bene, fuori casa questo lusso non possiamo permettercelo, era una partita da chiudere senza presunzione, era da chiudere il primo tempo, era uno a zero va bene lo stesso, poi andiamo in campo e abbiamo il favore di un'espulsione, a quel punto è calato il sipario, abbiamo pensato più a gestirla che a giocarla, e quello era il momento di giocarla e di andarla a chiudere, perché ripeto, se vuoi vincere e vuoi puntare a determinati obiettivi, queste sono partite da chiudere prima, invece così non è stato e per me non va bene, poi parziale scusante, insomma, stavamo pareggiando una partita senza subire tiri in porta, perché diciamo è stato un infortunio tra difensore e il nostro portiere, perché è stato proprio scaraventato, il ragazzo aveva la palla in mano, quindi lo chiamo un infortunio, insomma, brucia così, prendere un gol così brucia, però se poi vado ad analizzare il computo delle occasioni, del resto penso che sia stata una vittoria più che meritata, è giunta alla fine ma legittimata dalla prestazione, ripeto, per quanto un pochettino distratta però abbiamo creato, sono venuto a giocarmela con quattro attaccanti, sapevo il rischio che correvo, però sapevo pure che questa era una partita da vincere assolutamente. Senti, l'analisi 2 è stata identica a quella di Gigiotto Agata, che ha detto che questa squadra non si può permettere di perdere l'umiltà, e che in gambo bisogna guardarsi negli occhi e quando bisogna affondare si deve affondare. Certo, questo è quello che dobbiamo migliorare, l'acquisto di Agata non è un caso, l'acquisto di Agata è finalizzato anche a far alzare l'asticella della cattiveria, dell'esperienza, dell'abitudine a vincere. Ripeto, oggi non è stato così, domenica è stato meglio sotto questo aspetto, però dobbiamo migliorare assolutamente. Per chiudere, comunque due partite iniziali di questo campionato, qualche problema che tu hai brillantemente puntualizzato, ma resta il fatto che sono arrivati sei punti. Sì, ma noi avevamo il dovere di puntare sei punti, una squadra come la nostra non può fare altrimenti, ogni partita deve avere un unico obiettivo ed è quello di vincere, poi, perché non ci riusciamo, va bene, ma deve essere sempre, accetto sempre il risultato quando è per bravura dell'avversario, che se l'avversario è più bravo di noi si stringe la mano e si fanno i complimenti. Ma non è stato così oggi, nel senso che eravamo, ripeto, padroni del campo, uguale domenica per nostre disattenzioni. Quindi, vanno bene i tre punti, andrà bene quando non vinceremo, ma, ripeto, accetterò sempre il risultato del campo, ma quando è più bravo l'avversario ci può stare, ma se dobbiamo regalare noi, poi no. Una battuta finale sul San Martino, che ha dato l'anima, forse non poteva fare di più. Ma il San Martino non lo sapevamo che è così, ed è da sempre, no, un campo ostico, sono ragazzi volenterosi, ragazzi a partire dall'allenatore, persona per bene, ragazzo che ci mette il cuore. Lui ha impresso alla squadra questo suo spirito, questa sua voglia di fare, e in campo si è visto, perché, ripeto, c'erano tutti ragazzi vogliosi e, insomma, ben messi in campo. Ripeto, a prescindere dalle occasioni, però, non è stata una passeggiata. Quindi complimenti a loro, grazie anche per un'ospitalità veramente eccezionale, non resta che ringraziarli.